Maria Lica Esatto, che lei ha partecipato all'area di massimo livello l'anno scorso per la Romania conquistando anche degli ottimi risultati alla prossima This world is the power of God, all we need is a little love, all we need is a little love, all we need is a little love. Thank you very much.